Buonasera a tutti benvenuti su questo incontro che ormai è quasi menzile oggi sono molto onorato di incontrare una persona che mi tiene molto a cuore si tratta di Enzo De Caro che ho incontrato quindi è un seminario in Montesilvano quindi vicino Pescara ed è stato un incontro fantastico ci siamo subito piaciuti siamo diventati amici a rivedere non solo Enzo De Caro che tutti conoscono in televisione nella radio ma vorrei far incontrare il vero Enzo De Caro quindi lo presento l'invito con noi eccolo qua Buonasera Buonasera è un vero vero piacere averti con noi questa sera perché devo dire che come dicevo appena poc'anzi sei stata una persona che mi ha subito stupito perché prima di tutto al di là delle missioni che tante missioni di televisione che hai fatto hai sempre saputo mantenere la tua coerenza interiore ossia sempre sei stata una persona ecco che ha saputo in un mondo così difficile così movente mantenere il tuo la tua verticalità il tuo la tua direzione allora mi permetto di presentarti un attimo se mi concedi allora prendo qualche nota qua quindi sei un attore sceneggiatore regista cabaretista che tutti voi conoscete e poi è stato hai fatto anche un intervento in cinema su dove ha interpretato San Gennaro sul film è stato la mano di dio di Paolo Serentino stai facendo adesso facendo una tournée in tutta Italia in particolar modo in questo momento sei a Roma su come si chiama è una commedia di Peppino De Filippo che si chiama non è vero ma ci credo sulla superstizione sulla sulla sull'ossessione della superstizione sul problema di quando la superstizione diventa una ragione di vita è come tante delle credenze no che noi ci portiamo da generazioni dietro e che ci vengono tramandate come come verità è che finché non c'è una generazione o meglio la massa critica di una generazione che dice ma siamo sicuri che questa verità che ci viene tramandata sia verità possiamo indagare possiamo ascoltare forse una credenza che anche una cosa bella e importante i miti sono l'anello di condizione da da sempre da millenni tra l'umano e il divino però sarebbe interessante cominciare piano piano a distinguere la credenza dalla verità bello grazie per questa bellissima introduzione e quindi se volete guardarlo in teatro adesso è a Roma e fai ora in torneio speriamo che viene anche qua a Padova quindi così ci conosciamo se non c'è se non c'è nel nel tour del prossimo anno lo faccio per vedervi perché vai a fare lo so io c'ho due buoni amici a cui tengo molto che mi sembra grazie un ottimo motivo un ottimo motivo grazie allora volevo un po darti la parola perché sei una persona molto profonda e molti ti conoscono con l'enzo de caro che tutti vedono in televisione o tuon ti hanno visto in televisione ma c'è un enzo de caro che ha avuto esperienze non da poco sei un tra i primi ricercatori spirituali italiani hai già cercato da giovani ha intrapreso questa strada di ricerca veritiera e hai incontrato grandi personaggi hai incontrato saibaba sei andato in india a incontrare saibaba e vorrei contarci un po la tua esperienza ma guarda intanto sono stato aiutato nel nella normalità del cammino della ricerca perché comunque fare fare teatro e ricerca e ricerca dell'anima sicuramente forse non ha sempre una connotazione strettamente spirituale però comunque è una ricerca di qualcosa di ansesissable di in afferra che è più bello in francese nello traduciamo in afferrabile ma ansesissable più bello qualcosa che non si riesce ad afferrare e la ricerca del teatro è stata quella che ho condiviso insieme a dei miei amici di percorso dei compagni proprio di vita alla fine degli anni 70 a napoli era un gruppo di ma era un gruppo semplicemente di giovani cittadini italiani di napoli a cui non piaceva quello che stavano vivendo non gli piaceva questa realtà non gli piaceva la loro città sempre dipinta in maniera oleografica perché la pizza e solo il mandolino sono delle cose meravigliose per come il caffè e tutte le altre cose sfogliatelle però quando cominciano a diventare l'unica etichetta e allora a quei ragazzi e quei neanche 20 anni gli venne voglia di andare a recuperare qualcosa di buono dalla tradizione culturale teatrale della della napoli perché poi napoli ha avuto sempre nei nei secoli questa estrema contraddizione di essere da una parte c'è gomorra non nasce adesso sì adesso c'è questa cosa che si chiama gomorra ma c'è stata nel seicento nel settecento nell'ottocento c'era sempre l'abisso profondo ma contemporaneamente puntualmente napoli è stata l'ombelico del mondo della cultura da 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 federico secondo che che fondò lì l'università dove io mi sono laureato e che la seconda però c'è più novecento e passa anni e e poi giambattista vico e il settecento napoletano e la musica di cima rosa e gesualdo da venosa cioè napoli è stata costantemente altissima e anche bassissima però ha avuto una qualità che le riconosco molto anche in questo tempo e poi specialmente voglio dire in quegli anni ottanta tu hai citato il film di paolo sorrentino che ritengo sia un piccolo cavolavoro perché ha saputo veramente ritrarre quella napoli con tutte le sue contraddizioni apparentemente inconciliabili ma che invece le conciliava questo è il miracolo allora e oggi di questa città che include anche delle cose estremamente diverse da loro e dove nessuno si preoccupa più di tanto di andare ad azzannare alla gola il proprio nemico si occupa di fare il suo lavoro si occupa di affermare la propria arte il proprio artigianato per cui anche in quella napoli c'erano mario mail ora nino d'angelo i neomelodici ma dall'altra parte c'era pino daniele roberto de simone ecco forse proprio il primo il primo guru che ho incontrato che è stato massimo troisi che non aveva spiccatamente una connotazione almeno in apparenza spirituale ma sicuramente è stato uno dei più grandi ricercatori che ho incontrato ricercatore di poesia ricercatore di bellezza ricercatore di originalità e soprattutto ricercatore di se stesso nel senso che non ricordo a memoria nel bene nel male che non era sempre facile ma non ricordo una situazione in cui massimo non sia stato profondamente fedele a se stesso cioè non si sia mai tradito e si parla tanto no specialmente del gossip e i tradimenti l'altra persona è sempre motivo di tante trasmissioni per lo più bruttarelle nella televisione ma non si parla mai del tradimento più importante il tradimento a a se stessi quello che ci ha insegnato san paolo quando dice ne motene tour traere 6y non c'è nessun motivo e niente che possa fare in modo che ci si tradisca certo è un percorso e è un cammino ma tutto questo per dire che il cammino di ricerca del teatro poi può portare naturalmente a fare altri tipi di ricerca diciamolo chiamiamolo per comodità spirituale ma che comunque ti portano a incontrare dei personaggi fuori dal dal comune dalla cosiddetta normalità che poi bisognerebbe sempre capire questa normalità che cos'è chi la conosce tutto qui sì grazie ma è una cosa che vorrei è giustamente lavorare con te perché nel mondo della televisione un mondo non sempre facile più si è cresciuto come direi sei stato apprezzato in televisione non ti ha fatto da non ti ha dato tanti amici e invece non è un lavoro facile mantenere una vita spirituale una integrità morale come qual era il tuo segreto per poter mantenere questa verticalità non mi sono mai posto devo confessarti che non mi sono mai posto la domanda guardando indietro penso però che non aver mai lasciato completamente i miei interessi più veri gli studi l'attenzione per i cammini spirituali di persone eccellenti eccezionali che ho avuto poi anche tanto la fortuna di conoscere personalmente ecco forse mantenere questo questa fiammella accesa come comunque sei in una situazione di intemperia però sai che c'è comunque una fiammella accesa che va tenuta comunque costantemente purtroppo il lavoro gli impegni la famiglia eccetera magari ti costringono a volte a tenerla nel minimo però l'importante è tenerla accesa ecco da qualche anno invece e spero nel nel tempo futuro proprio di invertire l'utilizzo del tempo e magari dedicare una piccola fiammella accesa al teatro alla comunicazione alla televisione e avere più tempo disponibilità e ascolto per andare sempre più incontro a quello che veramente siamo allora viene una domanda importante perché uno dei tuoi viaggi con il gruppo questo gruppo di amici è stato di andare a vedere sai baba e hai avuto come dire una fortuna perché sei un forse perché sarebbe riconosciuto in te un essere particolare e sei stato hai avuto un interview sia un incontro personale cosa molto rara ci sono migliaia di persone che vorrebbero ogni giorno chiedere un la possibilità di incontrarlo di persona e se per questo ci sono anche migliaia di persone che vorrebbero essere al posto mio qui a parlare con te mi sento perché troppo buono e quindi che cosa che cosa che complimenti per la tua umiltà che ti caratterizza ma volevo sapere per raccontarci di questo incontro perché è stato molto affascinante si vuoi beh certo beh intanto io mi trovavo in india per per altri motivi era stato in india per girare un film il primo film di coproduzione italo indiana sul racconto della mitologia film che si chiama brindavan film studios di labberto lambertini e andando qualche volta in più in india se tu mi dici oggi come sei capitato lì io sotto tortura non te lo saprei dire non mi ricordo esattamente non so una serie chiamiamole così di di circostanze di casualità mi hanno portato lì a tutta parte dove ovviamente conoscevo sai baba ma la cosa che più mi interessava essendo lì con un gruppo di persone era far conoscere quell'aspetto di sai baba che era meno conosciuto cioè lui era conosciuto per le materializzazioni il santone indiano il guru che fa i miracoli invece il miracolo vero che ho scoperto è quella comunque di una persona altamente spirituale ma anche altamente immersa nella materia un indiano che aveva come primo scopo della sua vita cercare di migliorare la vita degli indiani soprattutto dei più piccoli e quindi ho trovato una persona che mentre si alternavano lì da sarah ferguson a nico c'era di tutte le persone arrivano da tutto il mondo a me interessava documentare quello che questo indiano questo personaggio molto speciale un po comunque diviso tra terra e cielo si preoccupava di fare per la sua terra costruendo ovunque degli acquedotti cioè acquedotti ma insomma è una parola grossa poter fare in modo che si facessero meno di 5 10 chilometri per attingere l'acqua nei piccoli paesi dell'entroterra indiana la costruzione forse del più grande ospedale che io abbia mai visitato non ricordo di averne visitato uno più grande dove c'era un'alternanza di medici e di altri volontari che per tre settimane offrivano il loro servizio che funzionava alla perfezione la scolarizzazione della fascia 5 12 che non esisteva quindi questo aspetto qui che io non conoscevo mi sembrò addirittura più importante dei miracoli come poi lo stesso diceva i miracoli sono erano un po la sua pubblicità ma la cosa è veramente gli stava a cuore era far crescere spiritualmente queste giovani generazioni che sarebbero state poi come stanno cominciando sarebbero stata la classe dirigente indiana quindi ho frequentato qualche volta abbiamo realizzato dei 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 servizi dei documentari che abbiamo semplicemente offerto alla all'associazione la satya saibaba e poi una volta anche qui per una serie di circostanze se n'era andata via la macchina con cui dovevo ripartire mi ritrovo a dove me lo ricordo perché era il compleanno di mio figlio toma era il 30 gennaio e la macchina se n'era andata c'era stato un mancato accordo non ce l'avamo capiti qualcuno che conosce i nostri amici indiani sanno che è sempre molto difficile interpretare la risposta che di solito avviene così e tu questo così dici ma com'è sì o no che voi stai dicendo probabilmente quello era un no ma io lo avevo interpretato come se ci vediamo alla macchina che voleva dire sì voleva dire insomma la macchina se ne andò io rimasi per un altro incontro e in quella situazione ebbe appunto fui chiamato tra quelle migliaia di persone che affollavano ogni mattina dalla notte il darshan con saibaba e in questo incontro a parte offrirmi un dono prezioso forse non non nel valore commerciale ma certamente nel nel simbolo e lui mi disse qualcosa che effettivamente portò un cambiamento importante nella nella mia vita mi disse now you have to shine siccome io ho sempre e avrei sempre preferito stare un passo di lato dalla ribalta se possibile dietro le quinte magari ecco già il fatto di poter essere utile al talento immenso di massimo troisi quando c'hai un top player in squadra va bene che tu stai a centrocampo mi fa il centrocampista fa il passaggio finale è già bellissimo però questo suo you have to shine questo adesso toni e devi brillare sicuramente non so se inconsciamente o meno ma mi ha creato il problema di accettare la ribalta di espormi e con tutto quello che ne è susseguito nel nel ventennio successivo dove torna in italia si faceva una cosa che non si sapeva come chiamarla quando fece le prime serie del 96 97 di una donna per amico non si sapeva se chiamarla scrivevano sui giornali film per la tv serie televisiva la parola fiction ancora non c'era era tutto sperimentale e quello mi piaceva perché quando c'è da da sperimentare una cosa di anche se di risultato incerto ma dove la cosa certa è provare qualcosa di nuovo io ci sono ci sono e ci sono volentieri che ce l'ho ce l'ho qui guarda ecco non è una cosa che mostro di solito ma mi piace in questo senso mostrarti questo questo dono ecco qualche occhio che ho ricevuto e eccolo qua non sento non sento più l'audio ecco scusami sì come è accaduto potessimo fare vedere la telecamera un po questo è ecco perché questo è stato materializzato in questo senso spiega che cosa è materializzato ma guarda per le persone che un po sanno questo c'è questa piccola stanzetta un po riservata dove a seconda delle persone sai baba aveva l'abitudine di materiale da materializzare dal nulla questi oggetti a volte una collanina a volte accanto a me c'è una persona che ricevete una piccola bhagavad ghita minuscola però la cosa interessante non è soltanto lui ci teneva tanto a questa cosa qua dice ok questo è un dono ma non è così importante l'importante è quello che ti porti a casa l'importante è il simbolo e lo so per noi è difficile che siamo sempre attratti dai fenomeni dai dal miracolistico ma io mi piace sempre di più testimoniare a parte la gratitudine per il dono ricevuto la cosa che il suo messaggio il suo messaggio profondo che era quello di era un gioco lila era un era un gioco era un giocare e quindi tu che hai tutte quelle conoscenze provenienze e battesimi buddisti mi piace dire battesimi buddisti la cosa che non si può dire però si capisce di tutta questa iniziazione capisci il proprio il lila il senso del gioco ma per lui la cosa importante era era altrove e c'era il momento del gioco e quindi dell'anello e quindi era sicuramente una persona che si muoveva su varie dimensioni ma non ha mai dato nessuna importanza a questa a questo chiamiamolo così il momento di prestidigitazione quello che gli interessava e quello che lui ha sempre voluto testimoniare era il suo messaggio quando c'era gente incantata da tutto questo che aveva trovato il suo nuovo google il suo nuovo avatar ma che fai qua vattene a casa tua a fare quello che devi fare hai hai avuto qui quello che dovevi adesso torna a casa tua dovunque tu ti trovi qualunque sia la tua fede e continua a fare quello che fai se questa cosa ti ha aiutato molto bene ma qui non c'è più niente da vedere e non è il circo quindi sei stato una settimana due settimane vai a casa e quindi questo era molto bello trovavo grazie grazie per questa stessa emiglianza e questo anello è stato una benedizione ma anche è stato come dire queste parole you have to charge to shine che in inglese significano devi brillare non sono stati facili da portare e no soprattutto per un'inclinazione mia personale che tende tendeva soprattutto nel passato a cercare un po non l'ombra ecco ma diciamo la penombra è la zona dove io mi trovo meglio le troppe luci ma ancora cioè ci ci faccio ma non ci sono ecco tutto qui però però anche questo è stato un insegnamento e e tu lo dici molto bene nel tuo bellissimo libro il gioco del perdono che bisogna proprio attraversare e seguire quando si trova la strada anche se si pensa che non sia quella adatta per noi va perseguita va continuata perché certamente quella giusta per quel frangente di vita e che poi porterà a una serie di direzioni da imparare che ci farà se tutto va bene passare al livello successivo del del gioco e hai incontrato anche altri personaggi scusami forse sveglio la tua storia ma in personaggi di rilievo ha incontrato santa teresa se che allora si chiamava madre teresa si chiamava madre teresa semplicemente e stando appunto a calcutta e b ho avuto l'occasione qualche volta di ecco semplicemente cercare di fare un servizio per lei e anche lì al di là della della santa ben conosciuta per quella cosa incredibile che lei ha a costruito lì perché il suo ashram era veramente non conosco bene esattamente l'espressione indiana e quella inglese però la traduzione italiana di calcutta anche rispetto al gange insomma la fascia protetta e finita dice appunto che è il buco del culo del mondo nel senso che è l'ultimo posto dove va a finire proprio tutto dopo il percorso di gange eccetera e lei aveva trovato il peggio del peggio proprio in questo posto e ne aveva fatto un luogo meraviglioso con un con un intervento con un con un atteggiamento che io non esiterei a definire profondamente rivoluzionario ma veramente rivoluzionario perché lei ha fatto la rivoluzione e quando il sindaco di calcutta andò a credergli e dice sorella ma tutti sti soldi che vi arrivano qua perché li sprecate questi questa gente che è arrivata oggi questa non arriva a domani usiamo in un le dice ma il fatto di poter dare anche solo per una notte un un letto pulito lenzuola che magari questi non hanno mai visto nella loro vita è è un privilegio che noi non possiamo perdere e così indegra stava piuttosto perplesso davanti a questo ragionamento ma trovo che il pensiero di poter offrire e lei preparava queste stanzette queste cellette ma sembravano dei bnb di con le lenzuola pulite i fiori come se accogliesse qualcuno invece erano persone che veramente magari non arrivavano al giorno successivo ma non importa è qualcuno a cui offrire anche solo per una notte la gioia la letizia e lei e le sue consorelle facevano in una maniera veramente incredibile nel senso letterale del teme non credibile non ci si credeva accogliendo tra l'altro tutti indistintamente lei non capiva il cristiano l'indu e il musulmano chi arrivava arrivava era un figlio di dio un suo fratello e quindi andava in qualche modo curato e soprattutto onorato era quello che il sindaco di calcutta giustamente aggiunta comunale il bilancio le scuole che se domani è liceo no va onorato perché è ancora in vita e questo trovo che sia stato un atteggiamento profondamente rivoluzionario e che cosa d'altro perché era una donna molto ricca ma la madre teresa di festa cittature ma che cosa ti ha più colpito a parte questa nozione della dell'onorare che è molto importante vicino alla morte chiaramente ma che cosa perché non ha perché non ha una ricompensa perché non c'ha profitto è una cosa dove non c'è apparentemente non ci si guadagna niente e invece lei aveva capito che nell'arco dell'equilibrio del mistero in cui viviamo valeva la pena di offrire un dono d'amore e lasciare una persona partire magari con un sorriso nella pulizia di un lenzuolo bianco che magari nella sua vita non aveva mai visto il tutto per rispondere alla tua domanda è facile la sole aveva l'abitudine appunto di celebrare questa questa messa molto presto al mattino diciamo che alle 5 30 era già finita la cominciava intorno alle 4 e c'era questo tempo dopo la conclusione della cerimonia che poteva durare tre minuti o mezz'ora non si sapeva in cui lei si ritirava ritirava in preghiera insieme a tutti gli altri scendeva un silenzio veramente energeticamente potentissimo e lei che aveva tante qualità ma diciamo che la bellezza fisica non era proprio uno dei suoi attributi principali era piuttosto nodosa rude volto duro segnato però in quei momenti mi riesce difficile anche dirlo diventava di una bellezza trasfigurata io non lo so dove andava ma certamente andava da qualche parte perché e tra l'altro la sua radiosità la sua luce il suo splendore si spandeva dovunque con persone che non lo reggevano e piangevano altri che ma lei non stava lì quando finiva finiva la cosa bella formidabile è che un minuto dopo dalla santa in preghiera trasfigurata in chissà quali mondi un minuto dopo tu avevi una specie di sergente albanese che diceva allora i conti dei giapponesi di ieri dove stanno chi ha comprato la frutta e perché mancano quei 20 dollari che servivano per comprare ma questa era la santa trasfigurata com'è che tu vieni qua che ti ha dato a distanza di un minuto e io io non sono neanche riuscito purtroppo a raccontare io ho fatto ho avuto la fortuna di fare un film una fiction sulla sua vita dove interpretavo il suo papà quando lei era piccola e ho proposto alla produzione di introdurre questa questa verità questa ma non c'è stato niente da fare ma di teresa deve restare con la sua immagine di di bontà di carità di santa ma io trovo che quel suo legame così forte col mondo ai miei occhi l'ha fatta ancora più santa di quello che era per cui quando ho la possibilità mi parlo era una donna straordinaria con conosciuto diverse persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla è proprio no ha lasciato il segno nel cuore e vorrei ancora chiederti perché ha avuto la fortuna di conoscere raymond moody anche quello che è stato uno delle grandi apri porte del mondo dopo la morte abbiamo parlato con madre teresa del passaggio ed è una cosa molto importante questo che gli ultimi momenti siano più belli possibili anche se ritrovi nel libro dei morti egiziani quello tibetano quindi è molto interessante e parlaci un po di questo tuo incontro con raymond moody perché l'hai conosciuto quando non era così conosciuto il dottor moody ha un po la sua storia è conosciuta è stato un medico per 30 e più anni era il nostro medico di base un medico condotto e che però se riceveva da molti dei suoi pazienti questi racconti sui momenti di premorte ha cominciato a metterli un po insieme e quindi ha verificato che su alcune tematiche c'erano delle similitudini di racconto soprattutto da quelli che poi ritornavano a questo famoso tunnel della luce eccetera eccetera che avevano delle cose comuni e da medico questa è la cosa che mi è piaciuta anche di lui che poi è una persona veramente lo zio buono che tu vorresti avere a casa tua a natale la domenica una persona però allo stesso tempo di una precisione di una profondità unica da medico ha raccolto e compilato tutti questi tutti questi casi che sono stati proprio l'inizio di quelli dell'esperienza dell'nd e della linea di confine tra la vita e la morte quella sulla quale comunque ancora ci si interroga e mi piace molto riportare un suo pensiero che io anche io personalmente condivido e diceva probabilmente una risposta certa a tutto questo non l'avremo però è molto interessante farsi le domande e quindi lui questo piccolo uomo buono americano che passava da medico condotto di casa in casa credo abbia messo proprio il via credo siano più di trent'anni fa ha dato proprio il via includendola nella ricerca scientifica non tanto come possibilità di hobby o qualcosa di esoterico no no lui ha cercato di e io credo che quando le due discipline quelle della fede quella della scienza quella della ricerca quella delle altre dimensioni si avvicineranno un po di più offrendo l'una all'altra quelle poche certezze che abbiamo beh forse possiamo avvicinarci sono d'accordo con dottor mudi non ad avere delle certezze ma magari qualche domanda più appropriata se la potremmo fare molto giusto e devo dire che mi ricordo quando ero piccolo avevo 12 anni eccetera quando nella libreria di casa nostra c'era nel libro di lemon moody e mi sono letto ho iniziato a leggerlo avevo 12 anni eccetera 12 13 anni e mi appassionava un po questa cosa che apriva qualche modo aveva usato anche se quando l'ho letto chiaramente per gli anni era un po più l'ha già conosciuto e credo che è stato un'apri porta un po come lo sei stato tu anche perché sei stato fai parte della prima generazione di ricercatori che hanno apri piste in qualche modo perché all'epoca anche parlare di saibaba di tutto quello che questa ricerca interiore che tu hai avuto che ti ha sempre riempito ti ha ecco hai usato in un mondo in cui non era ben accettato e hai usato anche con la tua emissione mettere in onda delle cose anche in cinema mettere dei dei delle idee anche l'ho visto adesso come san genaro c'è tutta una profondità del personaggio che ti ho admirato in questa questa scena della mano di dio e lì si sente al di là del testo c'è una profondità del film a quello del film a cui fai riferimento 2 invece è stata proprio la mano di paolo la mano di paolo sorrentino dio di se stesso nel senso che ha fatto un'operazione veramente ancora oggi mi chiedo come abbia fatto a raccontare con distacco e con maestria da maestro del cinema una vicenda personale davvero terribile la persona perdita dei suoi genitori quando quando era adolescente però ecco diciamo già già dagli inizi mettere garbatamente in discussioni come facevamo con la smorfia con con massimo trovisi e le lorena certe queste grandi queste enormi verità che poi alla fine dice ma siamo sicuri e quindi questo questo sketch della dell'annunciazione una natività dove tutti i personaggi del dei racconti evangelici si trovavano ad andare alla grotta di una signora incinta che però poi si viene a capire che è la porta a fianco hanno sbagliato casa non è quel non è maria quella la è un'altra che però sa dei problemi seri c'è il marito pescatore il mare complicato la vita è difficile cioè ha dei problemi non meno importa quindi questo mettere insieme diciamo le le piccole storie accanto alle alle grandi alle grandi storie è stato sempre un una cosa che ci ha interessato ma guarda mi ricorda adesso in questo momento sto facendo tutta una ricerca sull'infanzia di gesù e su su tutto l'evangelii apocrifi e tutti i testi un po nascosti un po eretici su quella sua nascita e devo dire che dopo tanta lettura su dei testi che chiaramente sembrano così svariati sembra proprio così sono piccole storie che si sono messe insieme di modo straordinario perché all'epoca gli apostoli non avevano idea di chi fosse davvero questo cristo anche nel vangelo diverse volte pietro dice ma chi è costui che ma cammina sull'acqua ossia non si rendevano conto di quello che stava accadendo realmente e dell'implicazione che questi momenti avrebbero avuto e questo e quando cristo li dice semplicemente ecco giovanni tu tu venite con me e loro decidono lasciano tutto e vengono sia alla volta cose piccole per creare una grande cosa e questo che lo dice madre teresa aveva questa possibilità di viaggiare tra i mondi andare sulle piccole cose e comunque avere la connessione verso le altre e vedere anche la discussione tra pietro giovanni che ogni tanto mi dico ma capisco perché sono state tolte dell'angeli perché sono proprio eppure malgrado tutto mi rendono il personaggio di pietro giovanni ancora più umani ancora più interessanti perché profondi come nel film del solentino come diceva la vita è un teatro hai ragione anche come nel film solentino quando avremo accesso e succederà una questione di tempo forse di decenni forse ma è inevitabile che avremo accesso se non a una verità storica assoluta basterebbe già almeno mondare alleggerire tutte le cose aggiunte nei secoli non c'era ovviamente la stampante la fotogopiatrice la per secoli e secoli c'era sempre qualcuno che trascriveva quello che leggeva e vuoi che la parolina in più non ce la metteva ma a volte neanche in cattiva fede c'erano le traduzioni a noi ci sono arrivate delle cose così di errori di traduzione a volte in buona fede a volte a volte no ma che ancora oggi infestano la grande verità anche del vangelo è importante noi abbiamo abbiamo massacrato il povero don ciro alla parrocchia noi quando facevamo catechismo e che lui ci diceva la cosa del del cammello che entrava nel lago e c'era il mio amico ermanno il più terribile diceva don c'è ma loro se è un dromedario come fa quello c'ha due gobbe c'è un ago più grande e nel gioco di questi ragazzi questi bambini terribili come sono terribili tutti i bambini però c'è una profonda verità perché già ai bambini di oggi è difficile dargliela bere così e quello è soltanto un errore di traduzione che nonostante sia acclarato e accettato anche da dai linguisti vaticanisti continua a restare lì nel nostro vangelo lì il una piccola alfa che è diventata una età era camelos e camelon perché il camelos e il i nostri amici ci sono persone da che ci ascoltano da genova loro sanno che i loro portuali si chiamano camalli perché i camalli sono i grandi nodi delle navi che si attaccano alle bitte e ancora oggi portuali di genova che è un'organizzazione molto forte sono i camalli quindi noi ci siamo bevuti per duemila anni questa storia che fosse il camelos e non il camelon ma quello non era il cammello che doveva passare per l'ago era il grande nodo della nave mi sembra anche più logico interessante era il camelon è più difficile che un cancio è che un grande nodo di nave passi per un ago dove normalmente passino i nodi piccoli anziché riccova del regno dei cieli eccetera eccetera questa come tante altre questi errori di di trascrizione o di traduzione hanno profondamente segnato le nostre viste e verrà una generazione che deciderà magari dall'interno della chiesa deciderà di intanto nel catechismo sono ancora i dei camali che traccia quindi verrà una nuova generazione di catechisti che forse accetterà questo ma ci sono sbagli ancora più evidenti il baglio di sbaglio di san gerolamo che ha tradotto per esempio la costola di adamo il lato doveva essere il lato invece è stato tradotto la costola e non è stata creata dalla costola di adamo ma dal lato di adamo che non è esattamente alla stessa cosa diciamo non esattamente dalla metà perché infatti adamo si è diviso in due ossia la metà è rimasta adamo l'altra metà diventata era era lì a un senso non è costa quindi sono tutte tutte però io mi accorgo di quanto nell'immaginario collettivo sia molto difficile mettere in dubbio queste cose che sono talmente radicate come la superstizione in un dna proprio millenario la mia sorella che non vuole sentir parlare quando io parlo di queste cose non lo vuole sentire le vuole i suoi santi le so che non gli posso dire che non che porgere l'altra guancia è un altro errore di traduzione che acclarato ormai dalla ramalica dove c'era questo antico proverbio che diceva non di porgere l'altra guancia ma ci porge il proprio profilo era un modo di dire tra i mercanti che quando la trattativa non arrivava a buon fine sai come sono gli altri che bisogna stare a un certo punto c'era quello che diceva no basta me ne vado porgo il mio profilo non l'altra guancia e Gesù diventato poi il Cristo ha utilizzato come spesso faceva nelle sue parabole questo detto popolare in maniera profondamente rivoluzionaria perché un ebreo come lui era si permette di andare contro la legge ebraica che prevedeva la vendetta come normale reazione ma dice guarda se uno c'hai un problema con qualcuno lascia stare quello della vendetta porgi il tuo profilo cioè non creare violenza vattene noi sono ancora 2000 anni che stiamo a porgere l'altra guancia come dei disgraziati e non se ne vede la fine insomma di questo allora volevo chiedere se ai nostri auditori spettatori si possono fare delle domande giustamente perché c'è stata una balanga non so se la riesci a vedere sulla destra del tuo schermo commenti dovresti vedere fortuna no lascio tutto questo a te io sono già al massimo della mia tecnologia come tu sai e lo sa io al massimo arrivo a whatsapp quindi al massimo ci sono tantissimi complimenti su di te fai parte della storia più bella della nostra città grazie enzo quindi tante persone che sono così contenti di vederti quindi non sono decine decine di messaggi di ecco per te la cosa che volevo chiederti adesso perché è una cosa molto importante che che mi hai spiegato quando siamo incontrati a monte silvano e che sarebbe che è una cosa che una perla di saggezza tu mi hai detto giustamente che quando che l'hai detto un po all'inizio la vita è un teatro e questo è stato un po una tua forza interiore che ti ha fatto cambiare la tua vita costantemente a te anche per rimetterti in gioco perché tante persone con cui anche che sono stati i tuoi mentori poi si sono allontanati e ti sei ritrovato spesso da solo e quel fatto di sapere che ecco che tutto questo un lila che significa lila in sanscrito significa gioco spiegaci questo concetto che tu hai sviluppato con maestria nella tua vita ma guarda e e siamo come spesso dice anche il nostro amico nader butto siamo qui a fare un corso di aggiornamento per cui continuiamo a vivere questo corso di aggiornamento imparando qualche lezione qualche qualcun'altra ne impariamo un pochino quindi ci vuole la ripetizione a settembre quindi la dobbiamo rifare qualcun altro abbiamo imparate non ce n'è più bisogno e ritengo che il teatro sia un ottimo un ottima palestra o il cinema o la televisione c'è quando tu hai la possibilità di interpretare un personaggio è un personaggio col quale convivi una settimana a volte due mesi a volte un anno cioè devi pensare muoverti come lui e quindi ho fatto l'architetto l'avvocato il killer poco il non mi piaceva insomma quindi ho fatto cioè ti cali nelle vesti di un personaggio non ci riusciamo sempre ma se se quelli che amano il teatro che fanno gli attori si ricordassero di più della del rapporto che hanno con il loro personaggio cioè che nasce vive esiste totalmente perché sembra veramente che tu sei il medico che sta facendo quella cosa lì ma poi la pellicola finisce il tempo delle riprese si esaurisce ecco in qualche modo è rapportabile anche questo questa nostra esperienza tutto sommato abbastanza breve interessante però un pochino breve per mettere a posto tutto si può portare proprio alla vita di un personaggio e finito questo personaggio probabilmente come quando io ho finito di far l'architetto o il tenente o l'avvocato torno da me probabilmente noi torneremo ma sicuramente arricchiti a quell'essere da cui proveniamo misteriosamente e da cui misteriosamente torneremo allora grazie per questa presentazione molto bella c'è una persona si chiama novella vitale che dice egno buonasera ti ho incontrato a napoli ad un seminario di giodorowsky che ne pensi di giodorowsky che a parte la la personalità multipla multietnica multietnica multidimensione e multi e sicuramente un maestro se non di saggezza certamente di ricerca e magari per alcuni aspetti uno lo può sentire più vicino però per altri meno però è sicuramente stato un personaggio che ha anche lui ha cavalcato la la scena il cinema la ricerca e trovo anche lui abbia avuto la fortuna di avere un filo che lo ha sempre comunque tenuto legato non solo a se stesso e alla sua ricerca ma anche proprio al suo percorso che sarebbe bello che che fosse proprio infinito ecco prodorowsky si meriterebbe se non un'eternità almeno quei tre quattrocento anni di vita per continuare a fare tutte le cose che che vorrebbe fare e il suo filo è stata la poesia la la parte che è anche po meno conosciuta si parla degli atti psicomagici sui film scandalosi il suo teatro i tarocchi ma la parte poetica di kodorowsky che meno nota rivela proprio che tutti quelli e per quelli intendo l'uomo della psicomagia l'uomo dei tarocchi l'uomo dei film sono comunque personaggi di un essere sicuramente speciale e molto importante che il poeta che è sempre presente in tutte le sue attività è stato comunque con seminario una bellissima esperienza lo ricordo bene a napoli grazie a una domanda di marilena maranghi vorrei chiedere al signor enzo se lui cristiano cattolico o altro se libero di rispondere oppure un po personale non ho problemi ma per me può rispondere anche con le sue varie formazioni di vita di famiglia di ricerca e il mio amico bernard ma bernard che cos'è come facciamo a defini che vi sembra buddista solo buddista cristiano solo cristiano o altro io credo che noi abbiamo la fortuna o la sfortuna di appartenere a una generazione per cui la fede stretta dentro un'unica religione non ci basta più purtroppo e cosa sarebbe così bello stare tra le 50 sono cattolico quanto su ebreo quanto su buddista musulmano come me c'è qualcosa sono ovviamente semi per cui andiamo un po attentoni anche facendo delle gaffe facendo essendo un po qualche volta ridicoli però credo che ci sarà mi auguro presto ma è inevitabile che ci sarà una persona semplicemente religiosa e non nel senso della religione che chiude ma spirituale che possa sentire più chiaramente la sua presenza divina senza avere alcun merito in tutto questo ci siamo capitati e quindi ci stiamo e soprattutto che possa capire che la sua ebraicità la sua buddistità la sua cattolicità è un fattore contingente di dove è nato di dove si trova chi sono i genitori cosa hanno fatto ma dettagli dettagli la racconta e oltre tutto questo ma qui abbiamo io sto parlando io ma vi dovrebbe parlare un il nostro maestro il maestro di tutto questo e bernard tra l'altro guarda verrà non lo so certamente magari la cosa non non ti farà piacere perché tu ospiti nel tuo canale qui delle persone con cui collabori eccetera eccetera allora è molto carinamente mi ha detto prima bernard se vuoi parlare di te il tuo spettacolo si va beh si può fare ma io non vorrei perdere perché me ne pentirei l'occasione non so quante persone sono adesso che stanno visitando questo canale o quante lo visiteranno dopo evidentemente non state vedendo la televisione non vi state vedendo la partita non vi state vedendo altre cose ma avete deciso di spendere del tempo qui e non è una circostanza casuale ecco se per caso c'è qualcuno che non l'ha ancora fatto io vivamente vi consiglio ma neanche posso dire di dedicarvi a questa a questa lettura ma trovo che questo libro di bernard eccolo qua non ce l'hai vero le persone che vengono nel tuo canale a fare pubblicità per il tuo libro succede anche questo libro questo il gioco del perdono che ha scritto bernard è molto più di un semplice libro molto più di un semplice seminario è veramente un una mano che prende con delicatezza e ma anche con forza chi vuole fare un pezzetto di strada ma non se lo porta da un'altra parte lo porta soltanto a se stesso alla sua strada e io do qualunque pagina io aprirei di questo di questo libro avrebbe a che fare con tutto quello che che abbiamo detto ma guarda guarda ho aperto una parte scusami per ammita il permesso di leggere due finalmente ho aperto a caso e mi viene pagina 57 lo zaino trasportato sulle proprie spalle per la gran parte della vita ora è diventato scomodo è arrivata l'ora di guardarvi dentro di sistemarlo e riordinarlo un po come si è soliti fare con la valigia al rientro da un viaggio la vita sembra ancora eterna e la soluzione più facile è quella di rimandare purtroppo più rimandiamo e più il peso del nostro carico aumenta è indispensabile una presa di coscienza molto salutare per poter procedere e avanzare ancora nel cammino della vita bernard rush ecco io approfitto veramente bernard per ringraziarti di questo dono che hai fatto di te stesso mettendo insieme i tuoi percorsi le tue ricerche ma anche una profonda motivazione di di condivisione in questo tempo dove siamo tutti un po disorientati impotenti non sappiamo cosa fare dove metterci con con queste brutture del mondo e infatti posso essere io quello che fa una domanda di tutti quelli che stanno posso prendere il privilegio di imbrogliare un po una domanda o una domanda il tuo libro si chiama il gioco del perdono e parla costantemente continuamente in maniera approfondita della convenienza del perdono il fatto che il perdono è conveniente non solo per chi lo riceve ma per chi lo fa o tra l'altro vedi siamo ancora una volta ci sarebbe da fare veramente un discorso molto più ampio ancora una volta su un problema di traduzione ho visto che avevo segnato il perdono la parola perdono che viene da perdono cioè attraverso il dare ma viene comunque da dal greco da a fiemi i miei ricordi del liceo classico mi fanno ricordare che c'è un alfa privativa all'inizio e un fiemi dopo da fios fion vuol dire esattamente non legare non trattenere quindi io perdonandoti questo è stato il giro che ha fatto la parola non trattengo più il debito che tu hai verso di me o che io ho di te come vedi le problematiche di traduzione continuano a insultare la nostra intelligenza ma quello che ti volevo chiedere bernarda da persona da semplicemente ecco come ne sono molto felice di essere tuo amico ma con quello che sta succedendo ma come si farà a perdonare quante generazioni ci vorranno per perdonare tutto questo questa è una bellissima domanda che mi fai Enzo credo che tutto dipende adesso effettivamente siamo in mezzo alle cose e ci sono tante scene terribili ma si guardi nella storia guarda quante cataclismi quante guerre ci sono stato sono un appassionato di storia e posso dire che passano dieci anni vent'anni trent'anni anche la guerra la seconda guerra mondiale quante persone oggi si ricordano che degli orori quante persone ne negano anche addirittura il tempo è buon signore e lentamente credo che si mi è concesso che in questo quello che io percepisco in qualche modo uscendo fuori dal corpo mi sono permesso di guardare un po' che cosa stava capitando e la sensazione che ho e di vedere delle macchie di rosso scuro quello che fa male non è solo la violenza che è fatta sul posto ma la violenza che noi anche lontani ci prendiamo e quella fa crea ancora più problemi vedo il numero di allievi miei che mi dicono ma io non posso uscire del covip del confinamento perché adesso non posso più di cominciare a vivere perché adesso c'è la guerra anche in spagna hanno paura di essere attaccati dalle crei dai russi e questo fa sì che c'è un dilagamento della macchia rossa quindi quando vedo a livello sottile la terra c'è un dilagamento della macchia rossa che va oltre il luogo dell'ucraina per espandersi in tante regioni e quello che sarà ancora più difficile da perdonare saranno tutte le conseguenze in altri paesi di persone che sono rimaste ferite dalle scene dalle e quindi è importante questo momento secondo me non lasciarsi troppo colpire dalla paura perché quando siamo colpiti della paura iniziamo a perdere la nostra il nostro cervello più cosciente più elaborato iniziamo a perdere i nostri mezzi e allora piuttosto che agire siamo lì a reagire e questo reagire non serve secondo me bisogna in questo momento usare uno strumento che spesso non parlano in televisione e che pure così forte dalla mia esperienza si chiama la preghiera prendere un attimo io lo faccio tutte le notte di andare a pensare all'ucraina alla russia pure perché anche loro stanno soffrendo diversi amici russi e quindi quando richiamo mi raccontano un po la difficoltà che e tutti stiamo soffrendo e quindi c'è un dilagare di questa sofferenza e dobbiamo instillare la pace cercare la pace e piuttosto che secondo me dare armi e continuare a dare armi per fomentare una guerra che c'è già bisogna cercare di vedere come si può fare per far incontrare due popoli che sono sorelli fratelli sia l'ucraina si vedono parlano la parte al di là del dnieper quindi all'est del dnieper sono tutti russofoni e quindi quello che sta capitando non è la guerra della ucraina contro la russia è la guerra dell'ignoranza sono state in contatto con amici russi un'amica russa che mi ha detto ma questi ucraini sono russi perché sto ma perché perché parlano russo allora gli ho detto ma se tu segui questo ragionamento io che parlo russo anch'io sono russo allora c'è una di entrambe le parti c'è una forza di come dire sono due popoli molto simili la russia prima le capitali di tutte le russie era chi è secoli fa poi è diventato il principato di di mosca e così così via si sono separate queste due entità sono così vicine mano due temperamenti forti e anche inamovibili quanto tempo ci è voluto e linsky per dire potremmo diventare un paese neutro poteva possiamo trovare delle soluzioni credo che ci sia bisogno ci sia una durezza da entrambi le parti secondo me una e credo che ecco dobbiamo ricordarsi del teatro tutta questa scena è come un film lo so che sono viti in mezzo e che c'è tanta sofferenza ma noi dobbiamo capire che ogni tanto l'essere umano ha bisogno di rifrescarsi la memoria si vede che da 70 anni non avevamo avuto guerre in europa io personalmente pensavo che non l'avremmo mai avute e invece si vede che la nostra ignoranza non sa pesantezza la nostra coscienza fa sì che abbiamo bisogno di nuovo di vivere la guerra per ricordarsi dell'importanza della pace per ricordarsi quanto è forte essere noi stessi essere come tu nella tua vita essere verticale malgrado tutte le difficoltà e credo che si arriverà a perdonare di più capendo per esempio che l'umanità come dicevi tu con jodorowsky ha bisogno di ripetere le stesse esperienze non è che si ripete la storia malbetta ma ha bisogno di perché la nostra coscienza è pesante e la guerra che c'è in ucraina con i russi è all'immagine della guerra che portiamo noi nel nostro cuore e quindi fin quando non abbiamo capito che spesso sono le nostre guerre interiore nostra rabbia interiore che alimenta ulteriormente le guerre che ci sono quindi speriamo che che questa guerra possa come dire risolversi più presto credo che già da questo che ho capito la guerra si sta reorientando e speriamo che finisca tra qualche mese almeno la parte offensiva la parte più dura e che almeno le vite siano salvate ma ahimè credo che ci saranno tante scene difficili che avremo da vedere davanti ai nostri occhi e l'importante non guardare con gli occhi della rabbia che alimentano ancora di più e credo non perdono da fare da noi ma guardare con gli occhi della compassione per chi soffre perché in questo momento il problema non sono i soldati e la guerra i problemi se che chi fa le spese e la gente comune come al solito la gente povera perché la gente ricca se ne è andata da tempo e tutte e la mancanza di cibo di acqua in qualche modo di zone che stanno tornando indietro nella loro evoluzione ma come nel nostro corpo ogni tanto abbiamo dei pezzi di cancher che appaiono regolarmente e ci vuole il tempo che il sistema immunitario possa rimangiarli ogni tanto sviluppano di più di ci vuole l'intervento chirurgico ma ci sono sempre ogni tanto bisogna essere malato per ricordarsi quanto importante essere in salute non so se ho risposto bene allora volevo dire non volevo abusare del tuo tempo ma volevo dire prima lasciarti parlare della tournée che stai facendo perché questo è uno spettacolo che si fa in tutta italia ti lascio parlare un po di questa tournée è molto difficile in questo tempo parlare di cose che improvvisamente sembrano stupide veramente rispetto alle cose importanti però anche in questo tempo riflettevo mi sono reso conto che da qualche settimana da qualche mese che la gente comunque ha cominciato a riempire i teatri quasi come una necessità di ritrovarsi come se ci fosse una voglia istintiva di rimettere in moto un muscolo dell'anima di ritrovarsi perché è un'abitudine che si è persa in questi due anni e come tutte le fratture c'ha bisogno di un po di fisioterapia quindi piano piano le persone ed incontrarsi in un luogo di pensiero o anche in questo caso di divertimento come il teatro è una cosa veramente formidabile spesso anche emozionante vedere la gioia delle persone di assistere a uno spettacolo con tema soprattutto di ritrovarsi e questo vale da da Biella a Brindisi da Trieste a tutta Italia e spero l'anno prossimo anche a Padova così ci vediamo Beh volontieri tanto credo che ci vedremo tra poco perché al convegno di Nicola Cuttolo a Montesilvano che per chi si è interessato ci ritroveremo per il l'ultimo fine settimana di aprile e quindi grazie a tutti grazie un grande grazie perché mi ha fatto un grande onore Enzo di stare con noi questa sera sono sicuro che ci sono tantissimi commenti te li farò vedere dopo ma penso che molte persone ti ringraziano dalla tua presenza è stato molto istruttivo per per tutti noi grazie grazie di dedicare sempre questo tempo con chiarezza equilibrio e profondità e è una sapienza che spesso sa e qualche volta quando non sa ha l'umiltà l'intelligenza di dire non so che è una frase che dovrebbe rientrare nei vostri nostri vocabolari di di onnipotenti del cavolo che ci sentiamo spesso grazie a te e ai tuoi ascoltatori auguri grazie a tutti grazie 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 Grazie.